Che cosa succede ai figli delle vittime di femminicidio e crimini domestici? Qual è la loro sorte quando si spengono i riflettori della cronaca e resta da fare i conti con la vita di tutti i giorni? In che modo possono chiedere e ricevere supporto? E a queste altre domande che si è provato a dare una risposta nel corso della tavola rotonda interistituzionale svoltasi a Napoli, nella sala del Baroni del Maschio Angioino, dal titolo Orfani Speciali. L'evento, organizzato dalla cooperativa sociale Irene 95, dal Consorzio Core, in collaborazione con il Comune di Napoli e CNCA, il Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, è realizzato nell'ambito del progetto Respiro, giunto ormai al secondo anno di operatività. Fedele Salvatore, presidente della cooperativa sociale Irene 95, responsabile del progetto, ha i nostri microfoni precisa. Una prima tappa importante per noi. Noi ci occupiamo degli orfani dei crimini domestici, in genere orfani di femminicidi, attraverso un'intuizione molto interessante che ha avuto l'impresa sociale con i bambini, e cioè di dedicare un'attenzione particolare ai ragazzi. Mentre i riflettori sono puntati sul fatto di cronaca ai metristi dell'omicidio della donna, spesso i bambini vanno nell'ombra. Il Comune di Napoli e il Tribunale dei Minori negli ultimi tempi hanno creato una forte rete interistituzionale per venire incontro alle esigenze di questi bambini, come spiegano Luca Trapanese, assessore al welfare del Comune di Napoli, e Maria De Luzzenberger, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Napoli. Il tema per noi è fondamentale, l'infanzia e l'adolescenza è al centro della nostra azione e questo tavolo oggi è la risposta operativa per fare in modo che si crea veramente la rete interistituzionale, non solo attraverso le grandi istituzioni, ma anche con il terzo settore che è il nostro braccio operativo. Ci vorrebbe un nucleo tipo pronto soccorso, specializzato con anche psicologi, che possa valutare poi nell'immediato l'affido del minore. Ovviamente poi si può rivedere questa cosa, ma almeno un ragionamento iniziale ci deve essere.